questo programma è offerto da centro sportivo football 24 un'oasi sportiva immersa nella città le previsioni del tempo per la provincia di messina oggi venerdì 7 febbraio cielo sariano con leggere velature temperature in lieve aumento comprese dai 13 e 16 gradi i venti soffriranno moderati da sud sud est su entrambi i versanti i mari mosso il terreno e lo ione domani sabato 8 febbraio cielo nuvoloso con possibili temporali che si alterneranno a schiarita nel corso dell'intera giornata temperature stabili comprese tra i 12 e 15 gradi i venti soffriranno moderati da ovest nord ovest su entrambi i versanti i mari mosso il terreno e lo ione o grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.